Rieccoci a Breaking Lab, siamo pronti, Giulia stai litigando col microfono, rapida perché è il tuo turno Lo sto smontando, scusate, ci parlerai di droga Mi parlo di droga, non è vero, quello arriverà dopo No, allora oggi vi parlo del glutine, quello che mi premeva anticipare era il fatto che insomma il glutine ultimamente è diventato una sorta di nuovo specchietto per chi ha voglia di trovare un nuovo veleno nella nostra alimentazione visto che hanno già, come dire, non si può dire una brutta parola hanno già messo in cattiva luce lo zucchero e tutte queste cose bianche, il sale eccetera eccetera e da qualche tempo ormai è la moda del glutine, il glutine fa male perché dovremmo liberarci del glutine Sul mio sito ho scritto un articolo abbastanza lungo per cercare di sdoganare questa falsa informazione a tutti gli effetti di una fake news in quanto viene utilizzata anche per persone che non hanno nessun tipo di problema di intolleranza o di allergia verso questa proteina, questo complesso proteico quindi quello che vorrei fare oggi è un po' di chiarezza, debuncherare questa fake news Mettiamo in chiaro le cose Mettiamo in chiaro le cose, ma partiamo dal comincio qualche cenno di alimentazione umana innanzitutto noi sappiamo che ogni cosa che mangiamo è formata da elementi nutritivi sostanze extra nutrizionali e quelle antinutrizionali quasi tutto quello che mangiamo è fatto di questo quindi all'interno dei cibi che normalmente consumiamo ci sono dei contaminanti questa è una cosa normalissima cioè in quantità tollerabili assolutamente sì o meglio il nostro corpo è assolutamente programmato per far fronte a questo tipo di chiamiamolo problema non lo è appunto perché siamo preparati ad affrontarlo quindi quello che succede è questo il nostro corpo ogni giorno lotta a nostra insaputa contro piccole sostanze fa parte della routine insomma è proprio una normale amministrazione da ufficio del sistema immunitario quello che non ci serve o fa male viene espulso sì sì tendenzialmente sì a meno che ovviamente non stiamo parlando di sostanze particolarmente dannose o problematiche 99 su 100 non è questo il caso ecco quindi detto ciò passiamo a parlare di che cos'è il glutine che cos'è il glutine? cos'è il glutine? glucosio? no titanio? tintinano? neon un po' di bario di uranio arricchito impoverito no vabbè allora il glutine è un complesso proteico che si trovano in diversi tipi di farine che derivano quindi da cereali ebbene sì noi siamo abituati a considerare pasta e tutti i derivati delle farine come principale fonte di carboidrati così effettivamente è però una cosa che spesso si trascurre il fatto che c'è un contenuto variabile di proteine all'interno di tutti i derivati che noi consumiamo pasta, pizza, biscotti, qualsiasi cosa e più o meno da 9 al 16% la composizione è fatta di proteine tra questi insomma il complesso proteico del glutine è formato da termini tecnici glutamina e prorina soprattutto ma vabbè interessante dove possiamo trovare glutine? ci sono diverse farine derivanti da cereali che contengono il glutine in particolare vi segnalo frumento, segale, farro, orzo, avena e camut sappiate che tutti questi alimenti lo contengono ma continuate a consumarli perché tra poco ve lo ridirò allora intanto vabbè parlando del glutine possiamo dire che è insolubile in acqua una cosa interessante è che possiamo riconoscere il glutine perché quando facciamo l'impasto per la pizza o per qualsiasi altra cosa è quella cosa che praticamente riesce a mantenere la loro forma appiccica? esatto è quello che funge proprio da collante ed elasticizzante quindi più glutine ha la pasta e la pizza più lo rende morbido quindi è una cosa positiva a livello di consistenza detto ciò la verità, spoiler è che se noi continuiamo a introdurre con costanza sempre senza esagerare ma questo è un consiglio che vale per qualsiasi alimento che noi consumiamo non c'è nessun problema tendenzialmente nella sua digestione ora poi quello che accade secondo le teorie del complotto è che quando ingeriamo il glutine quello che succede è che il nostro sistema digerente non sarebbe preparato a digerirlo quindi lo stomaco lo lascia passare così com'è l'intestino che di solito lavora con le parti già scomposte degli alimenti quindi abbiamo la proteina che è formata da tanti aminoacidi in teoria l'intestino è abituato a lavorare sull'aminoacido in sé non sull'intera proteina quindi quello che loro dicono è l'intestino si riceve questo enorme complesso proteico che non sa come trattare questo incredibile mostro sfonda le pareti intestinali provoca reazioni infiamatorie cioè dicono delle cose incredibili sembra un mostro veramente e tuttora che ha sfondato la parete intestinale facendo passare anche altre schifezze viene riconosciuto dal nostro sistema immunitario che reagisce impazzito chiaro certo il nostro sistema immunitario che popola il nostro circolo e quindi tuttora che finalmente il glutine riesce ad arrivare in un circolo provoca scatena reazioni immunitarie terribili niente di tutto questo è vero infatti in realtà il glutine viene degradato a livello dello stomaco ebbene sì il nostro stomaco ce la fa quello che arriva poi nell'intestino è quindi effettivamente una proteina scomposta del tutto no capita a volte che alcuni residui di parti di proteina quindi non aminoacidi singoli passino attraverso lo stomaco e arrivino all'intestino ma anche questa è normale l'amministrazione accade continuamente quindi anche qui non c'è nessun problema niente sfonderà la vostra parete intestinale se mangiate un piatto di pasta non c'è nessun problema può capitare addirittura che qualche chiamiamoli peptidi è il termine per indicare frammenti di proteine che sono ancora formati da qualche aminoacido facciamo finta che alcuni di loro non riescano ad essere degradati all'interno dell'intestino dalle proteasi va bene entreranno in circolo verranno riconosciuti dal nostro sistema immunitario sì fine del problema verranno immediatamente eliminati sì sì cioè è una cosa che davvero come vi dicevo prima accade continuamente l'intolleranza quando subentra l'intolleranza è l'unico vero caso a parte l'allergia in cui davvero non si può l'intolleranza è ancora studiata non è facilissimo diciamo capire come funziona però diciamo che si si presume abbastanza certamente che sia dovuta ad un enorme spropositato consumo che poi alla lunga dà dei problemi questo può presentarsi dopo sì cioè si diventa allergici non si nasce allergici esatto è proprio una cosa che subentra non lo so forse faccio un parallelismo forse esagerato però è un po' come il diabete quello non congenito ma che poi subentra facendo una dieta terrificante poi abbiamo difficoltà a produrre insulina è un'altra cosa vuoi dire di no? ovviamente è totalmente un'altra cosa perché non si tratta di intolleranze è proprio mancanza di una produzione di insulina sì perché dovuta il diabete di tipo 2 c'è uno scorretto stile di vita questo sì però nel caso delle intolleranze non è sempre associato a una quantità smisurata no infatti non è così facile capire deve essere proprio un meccanismo penso biochimico proprio di sistema immunitario comunque non è facile veramente capirlo e a proposito di cattivi stili di vita? ecco noi io ho pensato ma dov'è che troviamo questo wonderful gluten? beh nelle farine ah la farina che bella la droga e quindi ecco cocaine di Eric Clapton